Signore e signori, c'è un problema. Settimana prossima il Circus di Formula 1 morderà per la prima volta l'asfalto di Miami. Primo circuito in quel di Miami. Appuntamento dunque in Florida per questa Florida esperienza. Tuttavia c'è un problema davvero di fondo, almeno per quanto riguarda noi appassionati. Su Assetto Corsa è il simulatore che ci dà la possibilità di goderci un'esperienza fantastica con proprio fisica di guida, ma anche grazie a tantissimi creator che creano contenuti quali skin, quindi livree bellissime, quali auto e quali piste, hanno provato a ricreare anche il circuito di Miami che lo scorso anno, praticamente proprio un anno fa, è stato presentato tramite un video su Assetto Corsa con una Formula 1 Showcard 2022 proprio sul canale di Formula 1. Bene, se vi dicessi che quel video effettivamente propone una pista che dovrebbe essere ufficiale, che mi fa cadere il Zebedee perché è un creatore, una persona normalissima che ha deciso di creare la pista di Miami, ha fatto un lavoro migliore, voi come cavolo la prendereste? E purtroppo è proprio così. Ciao a tutti Damos, se siete benvenuti in questo nuovo appuntamento sul canale, benvenuti sul circuito di Miami, andremo ad utilizzare una mod di un ragazzo che ha fatto un lavoro incredibile e poi andremo a fare la comparazione tra il mio board lap e quello che ha mostrato Formula 1. Ragazzi, la pista, ve lo dico subito, non è per niente male. Ma andiamo a fare un giro con questa F1 75, in realtà è la showcar di Formula 1, ci sarebbe anche la versione F1 75 ragazzi, però mi fido di Racing Studio, di RSS, che è un gruppo di ragazzi che lavorano veramente molto bene quando fanno le mod. Andiamo come al solito a fare un giro di perlutrazione con la visuale on board TV in questo momento. Uscite le box, basta tranquille, siamo subito proiettati verso curva 2, in realtà, il circuito che dovrebbe avere, se non vado errato, circa 19 curve. Sarà difficile, chiaramente ragazzi, vedere poi un on board effettivamente uguale, identico a quello del video di Formula 1, ma adesso vi voglio far vedere un attimo le peculiarità del tracciato. Questa per esempio è in un curva veramente molto interessante, che mi ricorda tantissimo la penultima curva del circuito di Malese, è un circuito rimpianto dagli appassionati. Andiamo avanti, andiamo avanti, questo è il primo rettilineo con due curve nel mezzo, ma comunque da affrontare assolutamente in pieno. Andiamo, 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 abbiamo una tribuna simile a Catalunia, Catalunia in Barcellona, frata 100 metri e qui andiamo in un circuito che non ha mai visto la luce nella realtà, ovvero Vietnam, Hanoi, curva 1, curva 2 di Vietnam, praticamente uguale. Parte molto lenta del tracciato, con chicane lentissima nel mezzo, terza marcia, seconda marcia e altro rettilineo, che ho considerato contato e dovrebbero essere circa 17 secondi di full gas, un chilometro e quattro di rettilineo. rettilineo. Vi dicevo riguardo a da noi, ragazzi, perché dovete sapere che l'unica pista che nella realtà non ha mai preso vita, infatti qua adesso tornante, poi ultime due curve e abbiamo finito il giro, non ha mai preso vita nella realtà, ma nell'F1 eSport, quindi il campionato cruciale Formula 1 ma virtuale, che è stata la vittoria di David Toninza, il mio collega di lavoro, proprio lì. Perché lì si è corso. Curva 1 da affrontare in terza o quarta marcia, andiamo, andiamo, vedete qua inizia ad essere piuttosto veloce il circuito, pieno di curve abbastanza veloci. Questa è una parte effettivamente molto tecnica che ricorda, può ricordare ovviamente Silverstone, può ricordare anche più che altro Austin, che è una coppia di Silverstone, frenata a 100 metri, vedete quanto è difficile tenere la macchina in pista. Questa è una delle curve veramente tecniche, tecniche, tecniche. e onestamente adesso andiamo a fare un giro, un altro giro per spiegarvi, farvi capire meglio, perché ovviamente una pista nuova va un attimo vista meglio. 100 metri, freniamo ancora. Qua punto di frenata, probabilmente punto di sorpasso. Qui bello lo stadio, diciamo, del Messico, così da poter osservare il Formula 1 da vicino andare abbastanza piano. Però ragazzi, vedete qua le vietifuga sono abbastanza ampie, per quanto siano ridicolarmente, ridicolo, ridicole, insomma, molto piccole. Comunque lo spazio c'è. Ma noterete che nel video di Formula 1, magari poi le cose sono cambiate da quella mod, in realtà lo spazio è ridottissimo. Non so nemmeno dov'è che metteranno la laguna con tutto artificiale, yacht, laghetto creato apposta per i ricchi sfondati, insomma. Ultime due curve che mi piacciono assai, onestamente, e il circuito di Miami è questo qui. Startiamo il giro di questo bel circuito visto così creato da un ragazzo tranquillo, normale, che non viene pagato milioni per fare queste mod. Ma che appassionato. Vedete, è abbastanza tricky, eh? Adesso arriva la parte più bella, perché queste curve sono le più difficili. Vedete, vedremo un sacco di di bloccaggi. Mamma mia. Veramente tricky. Penso che qui arriverà una zona di RS, perché è abbastanza tranquilla come curva questa, anche quest'altra, praticamente da fare completamente in pieno. Non è stile Australia. Comunque era un po' più particolare. Però, vedremo. Penate a 100 metri. Curva lenta. Curva a favore degli spettatori, come dicevo prima. Shikan lenta. Rattiglino lunghissimo. Azioniamo anche il DRS con i due pallini verdi che vedete. Questo giro è veramente molto tranquillo, ragazzi. Lo sto facendo proprio per dimostrazione, più che altro. Ma non è male. Allora, due settimane fa, circa abbiamo provato Miami e, scusate, Las Vegas. E posso dirvi che questa è un'altra pista. Questa è una pista. Può essere chiamata pista. Ha sempre dei ricordi di altri tracciati. Degli spunti di altri tracciati. Le curve sono sempre le stesse. Chiaramente, con il passato del tempo, come mi verrebbe anche da fare una similitudine. Come nei film, adesso, chiaramente, perché fanno continui remake? Perché non è che ci sono sempre, sempre tante idee e le curve, in certo senso, a un certo punto finiscono. Non è che si può fare sempre qualcosa di diverso. Vedete, ancora stiamo migliorando, ma credo che Les poi ci abbandonerà. Les ci sta abbandonando. Eccolo, la barra verde è terminata. Infatti, adesso il delta va a scendere abbastanza sproposito, naturalmente. Proviamo a fare la staccata della vita. Arriviamo lunghi, però. Questa occasione di sorpasso, sì, sicuramente è una zona dove si possono fare sorpassi. Chiaramente non questa. Qua bisognerà stare vicini il più possibile a pilotare avanti. Abbiamo visto che è possibile con queste vetture, perché poi c'è questo super, mega, ultra rettilineo dove sicuramente vedremo, suppongo, dei sorpassi alla fine. Ma è divertente e tricky. Anche la sezione nel secondo settore, che dovrebbe essere quello più lento e molto interessante, e onestamente vedo, sì, dei rettini lunghissimi che potrebbero favorire Red Bull, ma ricordatevi che Ferrari porterà dai aggiornamenti e soprattutto la velocità non serve a nulla senza il controllo. Per il controllo intendo chiaramente iniziare a capire che ci sono tante altre curve dove l'efficienza aerodinamica deve fare la padrona e curve anche dove il grip meccanico, quelle lente, deve fare la differenza. Dunque va bene tutto, ma credo che questo circuito sia uno di più difficili, clamorosamente difficili dal punto di vista del bilanciamento del setup, soprattutto. vi ho detto però che la versione del modder che ho provato è diversa da quella ufficiale presentata da Formula 1 che non è stata divulgata. Eccola qui ragazzi, questo è il Miami Street Circuit. Adesso andiamo a vedere un pochino insieme e capirete tante differenze perché appunto i tempi saranno decisamente più alti. Iniziamo e vediamo già che i muri sono più vicini a sinistra, a destra, insomma vediamo un po' più di cose a differenza e vediamo anche un dislivello per Curva 1. Ora, chi sta provando sicuramente non credo che sia un bot ma uno che sta facendo un giro abbastanza tranquillo, Via di Fuga e Muretti veramente molto più vicini il che rende tutto un po' più difficile quando si parla di sorpassi. Le curve sono più o meno le stesse, vedete sempre dislivelli diversi, però sono più o meno le stesse. Arriviamo alla Curva Malesia al contrario, che affronta in un modo abbastanza strano, con un'uscita che è un po' più dritta rispetto a quella che avevamo noi e probabilmente con il DRS che può essere selezionato senza alcun problema, credo suppongo. Arriviamo poi in un altro sempre dislivello comunque in un circuito cittadino quindi magari è proprio così. Arriviamo a 100 metri e stacchiamo a noi. Vedete qua adesso c'è ancora lo stadio ma non è bello come quello del modder. e qua arriva la parte più assurda, più diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima ragazzi. Arriviamo nella parte più lenta del circuito e arriviamo con una chicane lentissima con dei cordoli veramente alti. Quando ho visto questo, devo stoppare il video, io mi sono rabbrividito perché queste sono tappe da Formula E e non da Formula 1 con tutto rispetto per la Formula E perché non è un campionato che ho disprezzo anzi. questa curva molto più secca a 90 gradi e poi rettilineo. Vedete ragazzi quanto la carreggiata è più effettivamente minima, minimale rispetto a quella che abbiamo avuto nella mod che ho appena provato, appena smesso di provare, di farvi vedere e quindi anche l'ividi fuga sono parecchio meno. Onesto, molto onesto, non mi fa impazzire questo layout. Se io onestamente vi ho detto che il circuito dopo appena smesso di girare lo trovavo veramente interessante, quando ho visto questo video onestamente mi sono ricreduto e se dobbiamo dire la verità dobbiamo affettarci più un layout o una forma del GP come quello che ha presentato Formula 1 altrimenti non avrebbe assolutamente senso. Detto questo non vi resta che salutarvi ragazzuoli quindi iscrivetevi al canale se volete mettete un bel mi piace e non mi resta che sperare, pregare che Formula 1 abbia visto il layout differente anche come vedi fuga del modder che ha fatto quella pista che ho provato per goderci ancora meglio un gran premio però sicuramente tutto quello che abbiamo visto sia lato Formula 1 che quello che ho provato io è meglio di Las Vegas ciao ciao